spacchettamento selvaggio ultimi 2000 fifa point di questo spacchettamento selvaggio ragazzi speriamo di trovare qualcosa di buono ragazzi ultimo pacchetto ragazzi l'ultimo pacchetto finora niente di buono vediamo adesso cosa esce fuori non ci posso credere ragazzi ronaldo ronaldo toti mamma mia ronaldo toti ragazzi ronaldo toti ronaldo toti ronaldo toti ragazzi ronaldo toti non ci posso credere ragazzi ronaldo toti sì